Giacomo, Daniele e Federico, tre storie finite male. Irene comincia a pensare che l'unico uomo che l'abbia mai voluta bene davvero sia stato solo suo padre. Purtroppo lui l'ha lasciata troppo presto, quando era solo una bambina e aveva ancora bisogno di lui. Alla soia dei 30 anni decide di riprendersi in mano la sua vita, rivolgendosi a uno psicologo. Non sa ancora che alla fine del suo percorso verrà a conoscenza di un segreto che mai avrebbe immaginato di scoprire e che la riguarda in prima persona.